Ciao ragazzi, oggi giornata treno, siamo a Casta Franco, direzione Firenze Torino Porta Nuova, delle ore 7 e 4 al binario 3 Passengers can find the train, regionale veloce 3478 off, Trenitalia Asia 2, Perona Porta Nuova, with schedule departure at 6, 58 at platform 3, regionale veloce 3479 off, Trenitalia 2, Venezia Santa Niciglia, with schedule departure at 7, 3 at platform 2 Allora adesso dobbiamo trovare la carrozza numero 5, sto trovando il microfono ragazzi, spero non mi sentite, la carrozza numero 5, adesso non so dove sia, vediamo se riesco a trovarla Bella giornata, oggi per andare a Firenze Ciao dopo Ragazzi siamo saliti nella carrozza, come vedete non c'è nessuno, siamo tutti soli, anzi sono solo, adesso mi siedo al mio posto Aspettiamo di partire, 7 e un quarto, dovrei partire per andare a Roma, però devo filmarmi in Firenze, quindi ci vediamo dopo Grazie mille, grazie mille, sono stati in Firenze, è arrivato per le ora, si è arrivato, oggi è arrivato, spero per la tua Grazie a tutti. 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 Andiamo in albergo, 5 stelle oggi. Eccoci, quasi arrivati, la Ternina. Grazie a tutti. Siamo arrivati, siamo arrivati. Bellissimo. Com'è che vi faccio vedere. Com'è che vi faccio vedere. La classica casa toscana. Guardate che bella che è. E' un'entrata. E' un'entrata. E' un'altra mega stanza. E' un'altra. E' un'altra. guarda che bella che bella che bella che sei. E' un'altra. 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 Lo dimentico. E' un'altra. Immagini Guadani. E' un'altra. E' quello lupo. E' un'altra. E' un'altra. E' un'altra. e quella questa è la piscina una bella piscina piscina bella un bel parco con una bella piscina peccato non avere il costume adesso vi faccio vedere la vista al contrario dell'albergo è molto bello l'acqua è stupenda tiepida eccoci qua e così vediamo l'albergo guardate che bello che è fantastico spero si veda bene purtroppo vibro un pochettino ma comunque spero che vi piaccia ciao la signorina è grazie a tutti 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 grazie a tutti